Senti che profumino, viene dal forno il Monsiferio, quello del panettone Galut, la domenica mattina vengono a comprarlo da tutte le parti, anche da Torino, fino da Mondovì, il Padamino Rosa, che bella carosseria, e tutti a prendere il panettone, alle proprie bunte, e ora che vado anch'io a prendere il mio Galut. Dal 1922 Galut è sempre così, sempre così.